Un piccolo fiore tra i fiori, del caldo sacco omniotico della pancia della mamma all'acqua fiorita di San Giovanni come buono auspicio secondo la tradizione. Un bagnetto speciale, quello che le ostetriche dell'ospedale di Cittadella hanno dedicato a questo neonato immerso nell'acqua riempita di fiori ed erbe di campo lasciata all'aperto ad accogliere la rugiada nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Secondo la tradizione popolare l'acqua di San Giovanni ha straordinarie proprietà benefiche conosciuta anche come rugiada degli dei racchiude in sé i poteri delle piante portando salute e prosperità. Allora auguri piccola vita che la tua esistenza sia felice.